Musica 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 E la devi dare! No, rimane un attimo. Grazie. Io provo a farlo a casa, e tanto filmo la... è un paio che rubano. Ver Сов che siano alla famiglia. 人ai sic�atamente tutte le cose sanno tomare i filoni. Che ficano cioè quello che scrivono per i firelli, un paio che bollene, Grazie a tutti. Poi le due paie centrali si fa il punto senza torcigliare più niente, si va a sinistra con le due paie che rimangono, il paio portante si mette da parte ancora, si prende il paio centrale che è stato lavorato e si lavora le due paie di destra, il paio portante rimane ancora all'esterno. Si prendono ancora le due paie centrali, si fa il punto e si lavora il paio di sinistra, il paio portante si ferma, il paio centrale, il paio di destra, il paio portante si ferma, le due paie al centro. C'è un modino però il ragnino è finito, un ragnetto. Eccolo, poi si ha fatto uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Si, che ha fatto i primi tre di quattro. Si, e si fa il bordino con il paio di rompere, uno, due, uno, due, tre, capito? E allora la zammina del ragno, lo spillo, una girata, punto. Uno, due, tre, capito? Uno, due, tre, capito? Capo veloce. Capo veloce. Sì, non è più semplice. No, è neanche difficile. Sì, non è più semplice. 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 Sì, non è più semplice.